Salve a tutti e bentornati al Dingo Show, bentornati al canale dell'arte e del collezionismo e con questo video si toccano veramente i due temi perché questo libro parla sia di arte, logicamente Pink Floyd, la musica e il collezionismo perché stiamo parlando niente poponi meno che dei Lunatics. Data di pubblicazione di questo libro è dell'ottobre 2012 per l'aggiunti editore, cartonato, dimensioni 18x25, 256 pagine a colori, costava 22 euro. Come si diceva gli autori dei Lunatics, gruppo italiano nato nel 2001 di appassionati intenditori collezionisti su tutto il materiale riguardante i Pink Floyd. I componenti. Nino Gatti, storico e biografo collezionista dei Pink Floyd da oltre 30 anni, a partire dal 1986, curò la fanzine in testella Overdrive, collaborando con altre pubblicazioni periodiche italiane e straniere. Partecipa attivamente a numerosi siti internet dedicati alla band in qualità di scrittore ed è citato in molteplici libri. Intervistato come esperto sul RAI Radio Capital e RAI Sat. Stefano Girolami, giornalista, pubblicista, scrittore poliedrico, collezionista, divide il suo cuore fra musica e storia romantica dello sport, cinema e documentaristica. Ha svolto attività giornalistica nei vari settori e periodici piemontesi e nel 2003 pubblica il suo primo libro autografo. L'amore per la storia del rock e il collezionismo floydiano lo spingono ad entrare nei lunatici. Nel 2005. È il curatore generale di questo volume. Danilo Stefanina, appassionato del mondo dei concerti fin dai primi anni 70. Si dedica alla collezione di tutto ciò che documenta le esibizioni live dei Pink Floyd. Soprattutto dal punto di vista iconografico e visivo dai poster psichedelici alle locandine, i programmini dei tour eccetera. Ha creato un sito documentario sui concerti della band. È l'esperto di poster e biglietti del gruppo. Stefano Tarquini, fondatore del gruppo dei Lunatics Club. È uno dei massimi esperti mondiali della discografia ufficiale in vinile dei Pink Floyd. È anche creatore e curatore di tre siti internet dedicati alla band. Una vera e propria enciclopedia contenente tutto lo scibile sulla produzione discografica planetaria del gruppo britannico. È il massimo collezionista mondiale di vinili The Dark Side of the Moon. Quindi lui ha tutte le versioni possibili immaginabili di The Dark Side of the Moon. Riccardo Verani, collezionista appassionato, vanta in archivio le rarità ufficiali a 33 giri dei Pink Floyd. Specializzato in edizioni colorate, anche le famose rosse giapponesi. Da qualche anno è diventato cacciatore di stranezze viniliche, cioè dischi con evidenti errori di stampa. Ha dedicato alla band il nome e l'arredamento del bar che gestisce e fra i saloni del suo ristorante organizza una volta l'anno un meeting musicale interamente composto da fan floydiani provenienti da tutta la penisola. Veniamo al nostro libro. La storia e l'iconografia delle copertine più misteriose. Le stranezze e rarità collezionistiche mondiali, i poster psichedelici, i vinili più introvabili, la censura, le differenze fra le edizioni nei vari paesi, alcuni fondamentali programmini dei tour, gli snodi cruciali della storia concertistica dei Pink Floyd, gli esordi all'UFO Club, i concerti italiani nel 1968 e del 71, fino ai risvolti dietro il materiale inciso per le colonne sonore dei film più importanti della loro carriera, cioè il capolavoro di Michelangelo Antonioni Zabrisky Point ed il controverso Pink Floyd The Wall di Alan Parker. Poi nel libro troveremo di ogni argomento vengano svelati i segreti risvolti più riconditi emersi dai solchi di una storia ormai più che cinquantenaria, accompagnando il testo con documenti perduti e gemme preziose provenienti quasi per intero dalle collezioni private dei Lunatics, una storia fatta di immagini preziose e rarissime, perché musica e arte grafiche sono un binomio inscindibile nella lunga carriera dei Pink Floyd, come la copertina turca di Obscured by Clouds con i Queen in primo piano a causa di un clamoroso errore che fu fatto su questa copertina nella versione come si è detto di Obscured by Clouds, nella versione turca, alle strane foglie di canapa che fuoriescono da un relics sudamericano, attraverso la censura di The Wall in Argentina e Sudafrica, fino ai formati più atipici e incredibili errori macroscopici e curiosità di ogni tipo. Questo e molto altro è contenuto nel libro Pink Floyd, storie e segreti. Il libro contiene anche un'intervista e fotografia inedita a Jenny Spice, che era la ragazza di Sid Barrett, era stata con lui dal dicembre 1964 alla primavera del 1966. La ricostruzione storico-artistica dei poster, realizzati in stile psichedelico che andava molto in quegli anni, che hanno caratterizzato la storia della band dai primi concerti all'UFO Club di Londra fino al loro primo tour americano dell'ottobre 1967. Lo studio della copertina alchemica di A So Serful of Secrets, cioè il secondo album dei Pink Floyd, una delle copertine più misteriose e indecifrabili della storia del rock, messa a nudo, segreti e simboli rimasti nascosti nel groviglio psichedelico della cover stessa. La codifica dei singoli soggetti è stata possibile grazie ad una pendante ricerca incrociata fra le stampe dei vari paesi nel mondo, diverse per definizione e in taluni casi anche per la veste grafica. Studio nel mondo Marvel Comics perché come tutti sappiamo c'è anche un'immagine tratta sempre in quell'album, in quella copertina tratta dagli interni di storie della Marvel e un lungo periodo di investigazione fra volumi alchemici e relativa iconografia perché c'è veramente un miscuglio di tantissime immagini in quella copertina. Un'esclusiva del libro è la ricerca condotta sui primi concerti italiani dei Pink Floyd nel 1968. È stata fatta luce per la prima volta sulle serate che videro i Floyd impegnati al mitico Piper Club di Roma grazie ai ricordi di alcuni fortunati spettatori dell'epoca e addirittura un rullino fotografico su cui furono immortalate alcune rarissime immagini. Il libro ricostruisce falluce sui continui e repentini cambi di location per uno dei concerti del tour italiano del 1971 con intervista esclusiva al promoter che ne seguì l'organizzazione. Un libro unico nel suo genere di collezionismo ed esoterismo rock. Il libro in questione eccolo qua bellissimo cartonato bellissima la copertina di quei tempi dei degli artisti dei Pink Floyd giovanissimi. Il retro copertina che ci ricorda The Piper of the Gale of Dawn che è il primo il primo dei Pink Floyd e questo retro lo ricordiamo lo rivediamo nel primo LP. tolgo la copertina perché sennò faccio dei danni vi faccio vedere la sovracopertina vi faccio vedere alcune cose dell'interno bellissimo anche il sotto copertina cartonato della giunti edizione la costolina è uguale alla copertina sfoglio a caso qualche immagine così vi faccio vedere delle locandine del periodo il libro è a colori e a colori voglio andare a vedere la copertina lo studio della copertina se lo trovo ci sono tutte le varie descrizioni e significati delle copertine dei Pink Floyd che avevano sempre questi album a concetto avevano sempre le copertine inerenti ai vari testi le immagini inerenti sempre ai vari testi faccio una carrellata veloce perché si sfoglia veramente è veramente scomodo ci sono le locandine ci sono i biglietti originali ci sono alcune edizioni bootleg ci sono veramente tantissime immagini e ricerche fatte su ogni immagine la copertina di zabrisky point che poi c'è una storia dietro alla colonna sonora che erano stati smarriti dei brani originali insomma c'è stato veramente c'è tutta una storia lo studio della grafica del la copertina sempre del secondo album che si diceva le varie immagini di cui sono state tratte come qui si vede il la foto di una sezione di un episodio della marvel altre sezioni che le ritroviamo sempre su quel disco insomma c'è veramente da divertirsi a leggere e andare a vedere le varie storie che ci sono dentro ogni immagine quindi pin floyd storie e segreti dei lunatics questo gruppo di collezionisti eccezionale che ha fatto questo libro che merita sia per i fan della musica dei pin floyd sia per i collezionisti in generale vi aspetto in un altro video e vi invito a scrivermi a iscrivervi al mio canale un saluto dal vostro dingo alla prossima